Padovano, siete arrabbiati con l'amministrazione comunale per la decisione di aumentare il costo dei parcheggi nelle aree di risulta? Questo provvedimento è calato dall'oggi al domani, anzi dalle 8 alle 8.30 senza che i passaggi politici sono stati fatti. Abbiamo riscontrato che diversi operatori delle categorie produttive sono arrabbiati, sono sul piede di guerra. Io in questo momento non mi sento di appoggiare questa delibera e chiedo lunedì l'immediato tavolo della maggioranza per discutere non solo l'argomento che riguarda la delibera ma anche per le attività che si sta svolgendo nella nostra città. Mi riferisco a Pescara Parcheggi e ritengo che Pescara Parcheggi sia giunta l'ora di chiuderla e di arrivare alla liquidazione coat perché non è pensabile che in ogni momento quando si verifica una perdita all'interno di Pescara Parcheggi l'unica soluzione è quella di aumentare le tariffe. La giunta Alessandrini è nata col piede giusto, sta facendo un buon lavoro, però non può pensare che il silenzio del Consiglio Comunale possa essere per loro una carta di credito. Il silenzio del Consiglio Comunale è un silenzio dovuto perché siamo in maggioranza, ma questi provvedimenti non possono essere così tranquillamente passati in prima linea. Questi provvedimenti vanno discusse nel tavolo politico. Comincia ad essere una spesa parcheggiare la macchina? Comincia ad essere una spesa ma soprattutto un incentivo a non venire in centro, andare nei centri commerciali che già sono abbastanza incentivati. Se devo prendere 2,50 euro contro la gratuità dei centri commerciali a questo punto veramente non c'è competizione, ci vogliono annientare. Pescara è il centro e si spera che facciano qualcosa, ma non in questo modo, nel senso è sbagliato. Non sono di Pescara, quindi sono qui casualmente. È la prima volta che partiamo? Perché è già qui? No, non è la prima volta. Ma che pensa di un aumento del costo dei parcheggi se dovesse venire qualche altra volta? Che se serve a migliorare i servizi è bene, se vengono spesi bene ben venga l'aumento dei servizi. Non ero informato su questo particolare. Allora cercheremo di parcheggiare molto più lontano dal centro, insomma, perché comunque è un disagio, voglio dire, anche con queste cifre. Sicuramente non è accettabile, voglio dire. Non è d'accordo, ovviamente. Assolutamente no. Ha saputo che aumentano i parcheggi tra qualche giorno? Sì, ho letto, ho letto, ho letto. E pensa? Penso che non sia giusto uno per i commercianti, perché così rimettono un po' in crisi, aumentano i parcheggi, perché è diventato quasi proibitivo a venire proprio a Pescara. Quindi lei non verrà più a parcheggiare con la macchina? Non è che non vengo. Il discorso è che se prima venivo quattro volte, adesso per una questione anche di ingiustizia verrò una volta, perché non è possibile pagare tutti quei soldi per un parcheggio.